Procediamo quindi con la cancellazione Guardate tutte le macchinette del signor Celeste Franco dallo stato di famiglia? Si Che sei uscito? Con chi sei uscito? Che amici mio? Io la serva a te non te la faccio Hai capito? Lo sai che mi ricordi quando fai così? Perché tu pensi di essere meglio Si In nove anni nessuno di voi mi ha mai cercato Me la saluto mamma No che te la saluto mamma Ma che sta succedendo? Niente, non succede niente Non succede cosa in camera da letto? Oggi Ciao Mamma fatta così ci ricasca sempre Dove stanno le mie vestite? Ma perché? Questi che ti ho regalato io non ti piacciono Guarda quando è bella Signora lei che dice a casa tutto bene? Tutto bene Mi sto rivolgendo a lei Mi sto rivolgendo alla signora Si va tutto bene Sti cazzo dei padri Devo rovinare la vita Per più forte di loro Già io voglio sta qua con te Ma non mi fa che fare la fine di mia madre Sei la mamma più bella di me Si Non siamo più tu ragazzini che si vanno a nascondere Resta qui Ma io voglio andare Quando ci sono i rumori dobbiamo aspettare Mi non posso più aspettare Mi non posso più aspettare Mi non posso più aspettare